Con l'acquarello mantecato al caffè lo chef Antonio De Vincentis ha vinto il Festival del Riso ricevendo anche il riconoscimento dell'Ubeme. Insomma una doppia soddisfazione per una giornata da ricordare. Assolutamente, oggi abbiamo fatto l'implane, abbiamo fatto, sì, è stata una bellissima giornata. Devo ringraziare a te in primis Paolo che hai organizzato sempre in modo eccezionale come fai sempre, a Marco del Ristorante La Rete che ci ha accolti veramente come se fossimo dei suoi figli, a tutti gli altri chef che erano con me, a voi soprattutto i signori della giuria e poi un pochettino anche a me che sono stato bravo a fare il piatto. Ma parliamo di questo risotto che ha davvero sconvolto tutti, tutti quanti hanno davvero apprezzato le qualità di questo risotto. Come è stato realizzato? Come è stato realizzato? Stavo a casa, quando tu mi chiamasti e hai fatto guarda vogliamo organizzare una gara di risotti io stavo sorseggiando il caffè, stavo sorseggiando e mi stavo mangiando un pezzettino di pecorino. Io amo il pecorino, amo il caffè. Quale migliore occasione per abbinare questi due elementi, questi due ingredienti al riso? L'ho provato in 20 minuti a casa, mi è piaciuto, ho detto boh, faremo questo. È semplicissimo, è nato in un monie veramente in maniera molto molto semplice. Ma se qualcuno volesse ripeterlo a casa, che consigli daresti? Di prendere lo chef Antonio e di cucinare a casa. Con l'acquarello mantecato il ristorante Fico Ficos di Fossa Censia dello chef Antonio De Vincentis si aggiudica l'edizione 2023 del Festival del Riso al ristorante La Rete di Pescara. In giuria a presiederla Mimmo D'Alessio dell'Accademia Italiana della Cucina. Com'è andata? È andata molto bene, devo dire che anche il primo premio rispeccia un pochettino l'orientamento di tutti i giudici. Un risotto molto innovativo ma gradevolissimo, quindi significa che la cucina che è in continuo movimento cammina e in questo caso cammina molto bene.